Ancora sangue sulle strade aretine a perdere la vita un ragazzo di 31 anni, Daniele Saltapari, residente a Campolucci, frazione del comune di Arezzo. L'incidente è avvenuto intorno alle 12.40 lungo la provinciale 43 della Libia nei pressi di Patrignone. All'altezza dell'incrocio, con la strada comunale che porta proprio all'abitato di Patrignone, la moto del 31enne si è scontrata con un autocarro. Entrambi i mezzi, sembra da una prima ricostruzione, viaggiavano da Ponte alla Chiassa verso Quarata. Sono entrati in collisione all'altezza della strada comunale che si immette nella provinciale. Le cause dello scontro sono al vaglio degli inquirenti. Nel violento impatto tra la moto e l'autocarro, il 31enne ha perso la vita. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari dell'emergenza urgenza. Sul luogo dell'incidente, un'automedica di Arezzo e l'ambulanza infermierizzata della misericordia di Subbiano. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Municipale di Arezzo.